Se trovo la Renegade Rider su Akinator il video finisce Ok ragazzi quindi oggi a grande richiesta cerchiamo la Renegade Rider su Akinator Però ragazzi prima voglio dirvi due cose La prima è che anche voi dovete partecipare al gioco di Akinator e scrivermi nei commenti un personaggio che voi volete che io cerchi Poi tra le opzioni nei commenti che leggete mettete like al commento del personaggio che più vi piace in modo che io poi lo andrò a cercare La seconda ragazzi è che da un po' di mesi sono anche sul sito Viola e porto streaming su Fortnite e tanti altri giochi in cui giochiamo assieme praticamente ogni sera Quindi mi raccomando in descrizione nella sezione live streaming potete trovare il link dove inizierai a seguirmi Fatelo e ogni sera date una controllatina che ci becca del live Non so se veramente la riesce a trovare se ci sono comunque tutte le skin di Fortnite però comunque la Renegade Rider è abbastanza famosa quindi dovremmo poterla trovare Non perdiamo tempo ragazzi gambe e spalla e giochiamo Allora selezione del tema della prossima partita personaggi animali Beh questa è abbastanza semplice direi personaggi decisamente personaggi Il tuo personaggio ha un cellulare direi ma io direi non lo so cerchiamo di essere vaghi per ora non diamo risposte che non sappiamo Il tuo personaggio è nato in Italia mi sento di dire di no effettivamente di no Il tuo personaggio è morto è più di una volta probabilmente però queste sono domande molto complicate a cui rispondere C'è una skin diciamo di no Il tuo personaggio è reale ok il mio personaggio non è reale cerchiamo di farglielo capire Il tuo personaggio combatte? Sì il mio personaggio combatte decisamente anche troppo Il tuo personaggio ha che pare con i supereroi? No non è un supereroe Il tuo personaggio è femmina? Mi pare di sì la renegade rider era una femmina Il tuo personaggio fa parte di un gioco online? Eh questa cosa già fa molto male al cuoricino Forse già ha compreso un po' qualcosina però andiamo E cioè sì il mio personaggio fa parte di fortnite Il tuo personaggio è un boss? No cioè non credo c'entri Il tuo personaggio ha le treccine? Mi pare di no raga non ce l'ha le treccine ho sbaglio Il tuo personaggio ha i capelli colorati? Non mi sembra perché c'ha l'elmo forse? Non credo Il tuo personaggio... No Akinetor ma che domani? Akinetor vuole questa facciata sporchaccione Akinetor? No certo che no Il tuo personaggio ha spesso un cappello? Vabbè ragazzi è stato un piacere Io me ne vado grazie Akinetor buonasera Dai ma già ha capito sì sì è un cappello di colore No non è un personaggio di colore Il tuo personaggio ha origini giamaicane Ma io che ne so... Ma chi è che nasce in giamaica? Cioè per nascere in giamaica devi essere giamaicano giustamente Vabbè comunque no non ha origini giamaicane credo Boh ma che ne so io Il tuo personaggio ha la faccia dipinta? Non proprio dipinta C'ha un po' di... Sì sì Allora me l'ha trovato Però perché l'hanno chiamato incursore rinnegato? Chi è che l'ha... che ha usato? Vabbè comunque trovato raga C'è un po' di...